Fuerteventura, calma di vento il termine Fuerteventura significa Fuertevento è qui in quest'isola che c'è il nome riascoltando il video il rumore del vento è così forte che non si riesce a capire il commento originale eccoci al faro del Cotiglio siamo nella zona diciamo nord ovest il quad dell'isola è uno spettacolo della natura il vento a Fuerteventura è sufficiente per impiancare il mare e l'oceano e il resto e in fondo c'è un'acqua calma non credo che si guida attraverso il filmato del telefonino in fondo alla baia l'acqua è calma perché a causa dei fondali che risalgono rapidamente le onde frangono più a largo in quello specchio d'acqua relativamente calma stanno andando io li vedo benissimo ma non so nel filmato stanno andando dei windsurfer portati da una vela a paracadute è uno sport veramente affascinante almeno visto da terra la vela si alza in cielo in modo spettacolare e trascina le persone ad una velocità incredibile grazie a tutti e comunque è acqua calma perché i bassi fondali fanno frangere il primo prima di arrivare alla costa e in quell'altra calma stanno andando tre capisci, praticamente hanno una vela a pilone che fa da propulsore per questo incontro alla velocità della luce sui surf, che è ben legato, è un sport estremamente accattivante da vedere, ma credo che sia uno sport reale, nel senso che devi essere fisico, non potevo fare al meglio, non basta imparare, devi proprio essere fisicamente in gran forma, comunque le vele o le ali dei windsurfers si invidono e sfidano le onde alla velocità della luce, bellissima!